ciao a tutti rieccomi qui no dove andate vabbè video lo faccio lo stesso sono di nuovo alla ricerca della fotografia perfetta quindi prendetevi tempo perché ci vorranno 300 400 anni prima che io riesca a farlo scherzi a parte sono campagna sperduta non so neanche perché sono venuto qua perché inseguendo un raggio di sole e ovviamente poi quando lo trovi che lo segui arrivi nel posto dove dovresti fotografarlo raggio di sole c'è più e quindi ripiegherò su qualcos'altro comunque qualcosa è lo stesso oltre al fango che mi stai inordando la macchina attenzione che adesso qua siamo in una manovra pericolosissima adesso la sbaglio e finisce qual video però in compenso posso poi metterlo sui video scusate se guardo negli specchietti ma cappottare in diretta sarebbe una cosa fantastica per voi non tanto per me manovra fatta anche perché la strada finiva quindi non potevo andare oltre allora dunque ho trovato qualcosa siete curiosi di sapere cosa anche io perché devo vedere il risultato finale perché l'idea c'è il risultato finale bisogna vedere se è garba allora vi rinnovo l'appuntamento non vi posso non sto più a dirvi dove come perché quando perché oramai essendo notevolissimamente rompicoglioni come si dice dovreste sapere dove trovarmi se non lo sapete cercate chiedete informatevi quindi questa sera sempre dopo le 20 così avete mangiato siete tranquilli siete sul divano se vi dettagli aumentare invece che guardare le foto lo potete fare ciao a tutti